Radio UC Focus. Ben trovati a un nuovo Focus Previdenza, opzione donna, requisiti fissati al trentuno dicembre duemilaventuno. La cosiddetta pensione opzione donna è stata riconfermata dalla legge di bilancio duemilaventidue che fissa la nuova data di perfezionamento dei requisiti al trentuno dicembre dello scorso anno. La prestazione è destinata alle lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e che hanno almeno cinquantotto anni di età se lavoratrici dipendenti o cinquantanove anni di età se lavoratrici autonome. La decorrenza della pensione non è immediata e si determina la data di maturazione dei requisiti. Per le lavoratrici dipendenti il diritto decorre dopo dodici mesi dalla maturazione dei requisiti, per le lavoratrici autonome dopo diciotto mesi. Ci sono però dei casi in cui la decorrenza ha una data fissa iniziale. Per le lavoratrici del comparto scuola è infatti il primo settembre duemilaventidue, per le lavoratrici degli istituti di alta formazione artistica e musicale è il primo novembre duemilaventidue. Con opzione donna la pensione è calcolata interamente nel sistema contributivo. L'importo della pensione sarà quindi inferiore in media di circa il trenta per cento rispetto alle altre modalità di pensionamento anticipate o di vecchiaia. E da Giulia Cassone tutto al prossimo Focus.